Io con i miei soci abbiamo gli occhi volto Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba Questa è dedicata a Kiroli Più o meno come fa un piccione E c'è una piattaforma che saliva, guarda Eccola che sta! Ci sono compenetrato! Aiutami! Che lo fate? Niente Damino mi ha conficcato mezzo corpo Ragazzi C'era la 105 Oddio Oddio Io pure sono cash Sì niente io cado è volto No è partito senza di me il carretto No ma ragazzi è pagato Guarda il checkpoint Ma io cado mentre spawn Oddio il mio personaggio si è sdraiato Sdraiati Ma non mi si affizza il cogno Cogno Sdraiati il 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 cogno Adesso la bata ce l'abbiamo fatta finocchio io misteri questa è la giornata